Crescono ad agosto del 12% i consumi di frutta e verdura spinti dalle temperature estive che aumentano la sensazione di sete e la voglia di refrigerio, nonostante l'inflazione alimentare al 10,5%, costringa le famiglie a tagliare gli acquisti. E' quanto stima la Colliretti Puglia, sulla base dell'indagine condotta nei mercati dei contadini di Campania Amica, che avevano già registrato il più 20% di acquisti a luglio, dopo il calo dei consumi di frutta di oltre l'8%, registrato nei primi mesi del 2023. La Puglia è la regione più ortofrutticola d'Italia, con quasi 200.000 ettari di superficie utilizzata, 23 milioni di quintali di prodotti e 1,2 milioni di euro di produzione lorda variabile, con punte di eccellenza e di valore di uva da tavola negli areali di Bari e Taranto, degli agrumi dell'arco ionico tarantino e degli ortaggi con spinte forti dalle province di Foggia e Brindisi. La ripresa dei consumi di frutta e verdure è importante dopo il calo dell'8% registrato nei primi tre mesi del 2023, con ciascun italiano che, indipendentemente dall'età, ne ha mangiato quasi due chili in meno rispetto allo stesso periodo dell'annata precedente, secondo elaborazioni col diretti su dati CSO Italy. Un taglio che pesa dopo che nel 2022 gli acquisti di frutta e verdura sono risultati di mezzo miliardo di chili inferiori a quello dell'anno precedente, con preoccupanti effetti sulla salute dei cittadini, visto che si è scesi sotto la soglia minima di 400 grammi di frutta e verdure fresche per persona. A pesare sui raccolti, inoltre, ci sono stati gli effetti del clima impazzito con il caldo torrito di luglio che ha bruciato le coltivazioni nei campi con ustioni che hanno provocato inevitabili cali di produzione.